Vedi le sue dichiarazioni Stefano Pioli, lamentando il pareggio contro la Cremonese. Ha ammesso che la squadra sta perdendo punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale per non perdervi le ultime notizie sul Milan in prima persona. E lasciate i vostri like per rafforzare il canale, perché è così che faremo crescere la comunità milanista. Nonostante un buon primo tempo, Pioli ha detto che la squadra si è disunita e innervosita nel secondo tempo, perdendo la compostezza necessaria per vincere la partita. Il tecnico ha sottolineato che il Milan deve migliorare nell'ultimo terzo di campo e nella precisione delle giocate, nei pressi dell'area avversaria. Lascia subito il tuo like per rimanere aggiornato su tutto quello che succede a Milano sempre in prima persona grazie. In vista dell'importante partita contro la Lazio, Pioli sa che una sconfitta potrebbe significare l'eliminazione dalla Champions League, e la squadra deve riprendersi in fretta. Tifoso rossone il Milan è in grado di affrontare la Champions League per il campionato? Lasciate un commento con la vostra opinione. Attivate le notifiche perché sei aggiornerò in ogni momento con le ultime notizie sul Milan.